C'è dello iodio, ma di tipo radioattivo, che è chimicamente affine a quello neutro, a quello buono. Quello che succede è che se noi abbiamo, immaginiamo che questa sia la superficie della nostra tiroide, e abbiamo dello iodio buono, per così dire, che satura la tiroide, vediamolo così, vedete, questa è la mia tiroide, adesso saturata di iodio buono. Quando arriva lo iodio radioattivo, mettiamo così, sulla superficie della tiroide, ecco che la tiroide rossa era, vediamo un po' la camera, e rossa rimane, che significa che se è satura di iodio buono, non recepisce, non cattura, non assorbe. Quindi sostanzialmente queste pasticche di iodio creano una sorta di schermo protettivo. Ma più che di schermo, che saturano tutti quanti i siti recettori all'interno. Però attenzione, mi faccia dire, perché non prendete le pasticche di iodio prima che sia necessario, perché lo iodio in dosi elevati è tossico. Raccomandazione che abbiamo capito con una chiarezza cristallina. Grazie, andiamo in pubblicità perché siamo a...